Ciao a tutti ragazzi, qua è Nicola Schiavi Parla e oggi siamo in un nuovo video e ho ammazzato una musca siamo in compagnia con Nicola allora comunque la intro è Giuseppe ciao a tutti ragazzi, qua è Nicola Schiavi Parla e oggi siamo in un nuovo video ragazzi sono in compagnia di un altro youtuber Lucchetto05 e continuano a fare i video eh? si forse, no forse, no forse like allora ragazzi ma che ho scorreggio scorreggio in questo stag se avete sentito il rumore ragazzi comunque so con Giuseppe mio fratello mio figlio amico e io e Giuseppe ragazzi la sorpresa sta per arrivare tu non la dire perché non l'abbiamo ancora seguitelo ragazzi comunque questo video è piccolissimo piccolissimo però è un video bravo 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 questo già mi sta facendo perché l'ho trovato in mezzo alla strada questo bambino allora mamma mia che devo dire che devo dire lui è l'area 6 o 7? 7 7 7 guarda 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 no qua non c'è lì vabbè comunque che devo dire Danico lo so c'è tutto ciao ragazzi mettete like iscrivetevi commentate condividete iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al suo canale a me iscrivetevi nella fantasia comunque ciao ragazzi è è è è è